Ho una nuova missione per lei, agente 117. Lei è 117, la migliore spia di Francia. Sì, la migliore. In realtà, non sta a me dirlo. È pronto a lavorare con il Mossad? Con chi? I servizi segreti israeliani. Sono felice di avere una segretaria così carina. Sono un tenente dell'esercito israeliano. E l'idea è che lavoreremo insieme. Da pari a pari. Noi riparleremo alla prima cosa pesante da portare. Dov'è Ponsimald? Vive in una comunità hippie. E chi sono questi hippie? Ragazzi con i capelli lunghi. Ma che strana idea. Il mondo va avanti, ragazzi. Siamo nel 68. E nel 68 la gente si taglia i capelli. Vorrei consultare una lista con i nomi e gli indirizzi degli ex nazisti residenti in Brasile. Ci deve essere un'associazione, oppure un club, magari un circolo. Seguimi. Ah, siete lì? Benvenuti. Agente speciale 117. Missione Rio. Dal 29 luglio nei migliori cinema. Vi aspettiamo.